E continuiamo le nostre riflessioni, come dicevamo in apertura di puntata, questa volta dal Gargano, potremmo dire ci spostiamo idealmente in un altro continente, grazie alla presenza, anche se purtroppo solo virtuale, di Fra Luca Santato, frate minore Cappuccino, che davvero ringrazio di cuore per aver trovato un po' del suo tempo per essere con noi e per raccontarci anche dei progressi del suo progetto missionario che abbiamo già raccontato qualche tempo fa nel corso di noi. del nostro programma Viandanti sulle strade del Vangelo. Pace e bene, Fra Luca, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie bene, buona giornata, grazie. Allora, la fattoria didattica, siamo in Mozambico, io ti chiederei, purtroppo abbiamo solo pochi minuti per farci un breve riepilogo, ecco, su questa bellissima progettualità e anche su quelle che sono le prospettive belle, positive, che il futuro riserverà a questo progetto. Lascio a te la parola. Sì, beh, innanzitutto grazie per l'opportunità che mi date di poter sempre condividere con voi il percorso missionario. Il primo progetto è stato inaugurato il 14 maggio che appunto prevede un centro pediatrico per bambini di strada, un refettorio per dare loro il cibo ogni giorno e alcune sale di formazione. Questo è già stato inaugurato il 14 maggio con la presenza dell'ambasciatore italiano e del nunzio apostolico del Mozambico. Adesso, da metà luglio, inizieremo proprio a costruire il vero e proprio orfanotrofio dove appunto i bambini che entreranno, e bambine perché sono un orfanotrofio misto, che entreranno in questo progetto dal gennaio del 2025, proprio saranno loro a gestire la fattoria didattica. Cioè, perché noi crediamo molto che questo progetto vada in autofinanziamento, dove i bambini e i ragazzi studiando, andando a scuola e coltivando la terra, potranno veramente avere questa possibilità. Ci tengo a dire che è stato anche Commissione della Providenza che il governo mozambicano, di fronte anche alla bontà del primo progetto, ci ha offerto 12 ettari di terreno. E questo ci permetterà di poter sviluppare molto l'agricoltura, gli orti e avere anche parecchie animali da giardino. Tutto questo perché crediamo che un bambino crescendo, arrivando ai 18 anni, un domani possa essere un buon agricoltore. La terra in Mozambico è molto ricca e questo appunto ci permette di poter dare loro un futuro lì e non invece pensare con quei viaggi di fortuna, che purtroppo tante volte diventano tragedie, che ogni giorno raccontano sui telegiornali. Ecco, dunque, io sempre quando posso condividere il progetto, innanzitutto ringrazio tutti i benefattori. Anche dalla Puglia ci sono tante persone che ci aiutano, da Lecce, da Bari, da Foggia. Io con il massimo rispetto e sempre chiedo a tutti di poterlo condividere per poter anche incrementare l'economia e accelerare i lavori. Perché sono progetti grandi, però lo facciamo per il bene dei ragazzi, dei bambini che in Mozambico hanno bisogno di aiuto. E in effetti, Fra Luca, per tornare a quello che dicevi prima, uno dei focus, potremmo dire così, su cui tu hai insistito molto, ricordo molto bene, nel corso anche della nostra intervista un po' più corposa di qualche settimana fa, il fatto che, diciamo, c'è una sorta di, come dire, chiamiamolo di staccamento da parte dei missionari e quindi far sì che le popolazioni locali possano camminare con le proprie gambe, potremmo dire, in questo modo. E dunque, anche poi andare ad implementare, a seconda delle loro anche capacità e competenze, quello che voi avete seminato. E questo credo che sia davvero una forma di rispetto, diciamo così, molto, molto forte da parte tua, da parte anche dei tuoi collaboratori. È fondamentale lasciare poi il campo a chi vive quel territorio da sempre, giusto? Sì, perché penso che l'impegno primario da parte nostra è aiutare la gente del posto, in questo caso io lavoro con bambini e ragazzi, a saper leggere il territorio e a far capire loro che proprio lì ci sono le risorse loro per vivere. Risorse che possono essere dal punto di vista sociale, possono essere dal punto di vista agricolo, può essere anche la chiesa, perché la chiesa in Africa è la chiesa che sta nascendo, a differenza della nostra chiesa, che è già un contesto millenario, però anche la chiesa lì può trovare delle forme di evangelizzazione non indifferenti. Fra Luca, allora io ti ringrazio. Purtroppo il tempo è tiranno, però ci tenevo davvero tanto a far sì che ci fosse stato un seguito rispetto a quello che ci siamo detti qualche settimana fa, rispetto a queste progettualità molto molto belle che ti coinvolgono e che coinvolgono la terra del Mozambico. Torneremo sicuramente a parlarne anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi approfittando anche della tua grande disponibilità. Io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie, grazie mille. Bene, buon'estate a tutti. Grazie, buon'estate anche a te carissimo Fra Luca, un abbraccio davvero di cuore per quello che fai per il Mozambico, per la tua esperienza missionaria. Adesso andiamo in pubblicità e poi la rubrica di Don Francesco Armenti, Dritto al Cuore.